Ci troviamo nella bella città di Bratislava e vogliamo acquistare dell'ottimo Haluski. Allora lo pagheremo in... I professori. Ne esistono di ogni tipo, forma e temperamento. E più a fondo conosci i vari tipi di professori, più ti sarà facile sopravvivere. Dai, coraggio. Alzate la mano, chi risponde? Se hai il prof interroganti, non avere paura ad alzare la mano. Anche se prendi un granchio, apprezzerà lo sforzo e ti darà lui la risposta. È forse il rubo? Grazie, Ned. È un bel tentativo, ma no. La risposta è... la corona. Se l'insegnante è del tipo noioso, ma si è fermato l'orologio, qualunque sistema è buono per restare svegli e svegliare la classe. Ci sono più teori? Sì, sei un insegnante che distrae. Nel senso che per qualche motivo ostacola la tua concentrazione. Tieni gli occhi fissi sul quaderno. Così penserai soltanto a studiare, che è il tuo obiettivo. E poi c'è quello che definisco l'insegnante perfido, che mira solo a distruggetti. Bigby, non vedevo l'ora che mi capitasse a dire. E non appena avrò capito come sopravvivere a questo, te lo farò sapere.